A Trieste è stata presentata pubblicamente dall'Associazione Radicale Certi Diritti, dal Circolo Arcobaleno, Arci Gay, Arci Lesbica e da Rete Lenford, una proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale che ha l'obiettivo di garantire il pieno rispetto del principio di non discriminazione anche a livello locale. La proposta contiene alcuni esempi di azioni concrete che potrebbe fare il Comune affinché venga pienamente riconosciuta la parità di trattamento di tutti i cittadini senza distinzioni di genere o orientamento sessuale. Ospiti dell'incontro Enzo Cucco della Fondazione Fuori e Walter Citti, referente Unar per la Regione. Hanno partecipato anche cinque consiglieri del Partito Democratico, gli assessori Laura Famulari e Antonella Grimm e il consigliere di opposizione Menis del Movimento 5 Stelle che ha accolto in pieno le istanze presentate. Le associazioni promotrici affermano in una nota si aspettavano una maggiore partecipazione trasversale ma hanno accolto con soddisfazione il fatto che i presenti abbiano manifestato l'assoluta condivisione dei temi e dato la loro disponibilità a dare immediata concretezza all'iniziativa.